Musica Ciao a tutti, questa volta parliamo di identità europea. Noi siamo cittadini europei, quindi in teoria dovremmo anche sentirci cittadini europei, ma è effettivamente così? Io ho fatto questa domanda ad altri studenti Erasmus come me, anche perché in fondo l'Erasmus è stato progettato proprio per questo motivo. È stato avviato dall'Unione Europea nel 1987 per sviluppare questo sentimento e per sviluppare soprattutto la mobilità, per fare in modo che se un cittadino italiano, spagnolo, greco che sia, possa spostarsi a lavorare e vivere in un altro stato dell'Unione Europea, senza troppe difficoltà, sentendosi europeo. In realtà le difficoltà sono tante perché le lingue sono diverse, le leggi sono diverse, i modi di fare sono diversi, quindi bisogna essere preparati. Da un certo punto di vista io mi sto sentendo un po' più europea, però allo stesso tempo mi sento molto molto di più italiana. Non che un sentimento debba escludere l'altro, però è anche interessante vedere come l'uno prevalga sull'altro. Inoltre mi sembra che le influenze che riceviamo vengano da tanti territori diversi, non solo europei. In un certo punto di vista io mi sento molto più influenzata dall'America che non dalla Francia, per esempio. Però questo è un mio modo di vedere le cose e può non essere condiviso. Ed è anche per questo che ho fatto queste interviste, per vedere come la vedono altre persone di nazionalità diverse. Mi chiamo Alexa, sono da Germania, da Munich. Beh, credo che tutte le esperienze in grado sono grandi e sono davvero importanti per la carriera, per il futuro, per il lavoro. Ma anche per la personalità, per la personalità e individuale. Quindi penso che sia un'ottima esperienza, soprattutto se sei raggiunto, se sei libero, se sei libero, puoi fare queste cose. E, sì, so far è un'ottima esperienza di essere qui. Penso che è importante avere la Unione europea. Non posso dire se non siano mai più o se siano German o se siano europea, ma io diria, half half. I think it's the sense of community of unity somehow and of the feeling that we're compatriots like that not every country is individual and like separate from the others but I think this this common feeling and this common sense of being together and being part of something bigger is important so that not each country is looking for their own advantages for their own things but that they somehow are willing to help each other and also the knowing that you get something back if you need help those kind of things so I think this this the whole thing is important in this year my name is Lorinas I'm from Lithuania the small town near Vilnius our capital of Lithuania it's very nice with beautiful lakes it's a very nice experience you meet a lot of different people from different country you see how learning in universities is going on and it's just beautiful and of course you can every time you can include it in your CV or somewhere else in your life experience so it's very nice it's interesting film thing because I feel European but I can't express myself what means like of course I am Lithuanian and I can't express what it feels to be Lithuanian it's like very hard to say you know it's very interesting feeling for me I think from Europe because I went to this Erasmus educational thing and I think I'm gonna find I'm gonna be looking for a job in Europe's in Europe not in Lithuania because I don't want to say that in Lithuania you can't get paid really well but in Europe you can become like a bigger persona I don't know achieve something more than you can in Lithuania my name is Linda I'm from Portugal right now I feel more European because I don't speak Portuguese here only with my parents but not too much and here I usually speak only English and a bit French we have like a lot of things good things in Portugal that we don't have here but we here we also have like a lot of opportunities that we don't have in Portugal and I think we should have like equal opportunities in both in all Europe to be European it's like be able to do everything that the other Europeans are able to do my name is Barbara Sukha from Slovakia the one country in the middle of Europe the one very very beautiful country in the middle of Europe I feel much more from my country yeah I feel from Slovakia depends because when I come here to Brussels yes I'm really from Slovakia I am proud of it that I'm from Slovakia but depends you know when I come to USA I would feel also European because there I would be in a in a different different really different country different continent so I would feel also European but still more Slovakia I'm Matthew or Mathieu I'm from Luxembourg like this tiny country right between Germany and France and Belgium I think Erasmus is a unique opportunity which every student should seize because it's awesome to get in touch with other cultures of Europe and I think this is like the first opportunity people get to see other cultures because because by living other places you feel you have to get a grasp of what's really happening over there because just listening and hearing what people say about countries isn't enough you have to live it and that's why Erasmus is good so I feel very much European because I don't feel that much Luxembourgish but it's not like my feeling to be European would overwhelm my feeling of being Luxembourgish it's more like a lack of national identity which causes my feeling of European because I consider I see I witness people from bigger European countries to not have a dead a strong connection a strong link to this European idea yes I feel very European